molti anni fa Silvano e Feliciana avevano preso in gestione un'osteria ai margini della via maestra proprio nel punto dove si incrociano due strade importanti per questo motivo il lavoro non mancava mai Silvano si occupava della cucina e Feliciana serviva ai clienti che si fermavano mangiare nella grande sala o sotto il pergolato di uva bianca che si lungo la facciata della casa Feliciana era sempre cordiale sorridente e non mancava mai di scambiare con i suoi clienti qualche battuta spiritosa tutti apprezzavano la buona cucina familiare di Silvano e gli affari andavano a gonfie vele da furbo stessa qual era Feliciana sapeva che la fortuna doveva essere aiutata si voleva che il gruzzoletto depositato alla posta diventasse sempre più pesante così qualche volta aggiungeva una modesta voce supplementare al conto degli avventori i quali di solito non gli davano che un'occhiata distratta prima di pagare e uscire un giorno giunse all'osteria una comitiva di ciclisti in gita di piacere lasciarono le biciclette all'ombra della vite entrarono nell'osteria e comandarono il pranzo erano allegri e rumorosi e Feliciana ebbe il suo da fare a servirli dopo aver mangiato abbondantemente e vuotato diversi fiaschi di vino si misero a cantare a squarciagola venne l'ora di ripartire e chiesero il conto Feliciana tirò fuori il suo tacquino e compilò accuratamente la nota dei consumi in fondo aggiunse uno scarabocchio se la va lire 2000 fece la somma e portò il biglietto al capo comitiva poi si allontanò qualche minuto dopo si sentì chiamare c'è qualcosa che non va il cliente indicava la sua noticina in fondo al biglietto tutto bene tanti coperti antipasti i primi piatti il bollito ed il salame verdura di guarnizione e il budino di vaniglia per tutti però non riusciamo a capire questo cosa significa se la va a lire 2000 Feliciana comprese che era meglio non discutere afferrò la matita e cancellò la voce con un tratto netto diminui il conto di 2000 lire e sorridendo disse non è andata grazie a tutti Grazie a tutti